e che che è un muro qua e che cazzo io non ci sono mai facciamo poi vediamo alla fine che cazzo la deve fare questa gliela più o poi la faccio fare tutto da sole non me ne frega un cazzo altro che fare fioriere adesso si sta dando le fioriere prende l'incontrare adesso come facciamo a buttarla giù di là ha detto che adesso la sposa io lo giocherò per la chiesa bicchiere di vino vuole che c'è che vuole ancora si è messo in posa per te ma mi ha fatto sta facendo il film ciao minca guardate il casino che abbiamo in questa azienda qua per far entrare sta barca guarda che cosa mi hanno combinato è un disastro qua dimmi te qua non ci sta più niente non ci sta minca la 13 metri è lì lo scarto e che è qua mamma mia ragazzi meno male che c'è Antonio che sta rilucidando fioriere signor Dario chiediamo subito qua allora la mettiamo giù o no ragazzi non ci sta rilucidando fioriere Grazie a tutti.